Rocco Ianni, allora stasera una grande soddisfazione, eri anche emozionato nel ricevere questa targa e questo riconoscimento e tra l'altro questo medaglione che da oggi ti nomi l'ambasciatore della cugina Bagnarota nel mondo Sì, una grande soddisfazione, non me l'aspettavo, veramente ero molto emozionato quando mi hanno dato la parola devo dire la verità, per me è stata una cosa molto bella, non pensavo una... Hai detto che eri più emozionato qui che in trasmissione Sì, è vero, ero più emozionato qua che in trasmissione, in trasmissione magari ero più tranquillo anche perché facevo il mio lavoro alla fine invece qua no, quando devo parlare devo fare qualche discorso un pochettino mi sono emozionato anche delle belle parole che hanno detto, che hanno espresso nei miei confronti che è stata veramente, per me è stata una sorpresa però è stata una bella cosa e una grossa soddisfazione Bene, il risultato della trasmissione, la tua partecipazione, il tuo ruolo di protagonista nella trasmissione Cuochi d'Italia e stasera questo riconoscimento ti fanno da sprone insomma per continuare così come hai già da tempo iniziato insomma continuare nel tuo lavoro Sì, questo è importante, ti dà pure uno stimolo in più uno stimolo in più per nuove sfide, per nuove cose e devo dire quanto riguarda questa medaglia per essere ambasciatore della cucina di Bagnara è stata veramente una grande soddisfazione Presidente, allora una serata emozionante questa nel dare un giusto riconoscimento allo chef Rocco Ianni del ristorante Le Saie Ma non poteva la Proloco sottacere diciamo così a questa iniziativa soprattutto perché Rocco Le Saie, il titolare del ristorante Le Saie ha dato lustro veramente a Bagnara io sostengo da sempre praticamente che Bagnara ha due enti importanti di promozione del territorio il comune e le Proloco che sono una rete nazionale saputa ormai da tutti per cui questo evento la Proloco doveva necessariamente valorizzarlo perché attraverso la presenza dello chef Rocco Ianni a questo incontro nazionale ha dato lustro a Bagnara, ha valorizzato il territorio e ha valorizzato anche la cucina di Bagnara tant'è che è saputo che a Bagnara i ristoranti, i ristoratori sono più che contenti della partecipazione di Rocco e della presenza delle persone che vanno ad assaggiare i prodotti di Bagnara tra le altre cose ha valorizzato anche il torrone perché lui come ha visto la trasmissione ha parlato anche del torrone un tipo di pesce che cucina con il torrone, quindi una simbiosi perfetta quindi Bagnara in questo momento merita questa attenzione la Proloco ce la mette tutta e speriamo che abbia un futuro diverso e un futuro migliore Anche il comune di Bagnara Calabra stasera è qui con il delegato e l'attività produttiva Michele Spoleti a testimoniare insomma riconoscenza verso lo chef Rocco Ianni per l'importante sua partecipazione alla trasmissione televisiva Cuochi d'Italia Sì, appunto siamo qui per ringraziarlo per quello che ha fatto e per quello che ha dimostrato diciamo tutta Italia durante la trasmissione di Cuochi d'Italia Rocco attraverso la sua passione, il suo amore per la cucina ma soprattutto come ho già detto prima l'amore appunto per questa propria terra ha dimostrato che Bagnara, la Costa Viola e la Calabria non ha niente di meno di altre zone turistiche così importanti infatti i piatti appunto che sono stati presentati, i piatti appunto a base di pesce a spada a base appunto di spadola che sono i prodotti caratteristici appunto del territorio con il torrone GP di Bagnara che ricordiamo il marco importante di identificazione geografica protetta ha fatto sì che Bagnara uscisse veramente grande da questa appunto trasmissione televisiva e di questo come amministrazione e come territorio penso che dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi e grati grazie